Presidente Anello, Papa ce l'abbiamo fatta, ormai è una realtà acquisita, la 2 è tutta tua. Se te l'avessero detto 3-4 anni fa, era un sogno nel cassetto come si dice? Sicuramente era un sogno nel cassetto ma l'abbiamo cercata e ottenuta. Tutto qua. Allora, che squadra è Anello? Perché chiaramente tu fai magie con la capacità anche di saperti contenere dal punto di vista economico, il che non è assolutamente facile. Io penso che noi siamo una buona squadra, naturalmente siamo una neopromossa e dobbiamo lottare su ogni campo e su ogni pallone. Daremo vita dura a tutte quelle che incontreremo, quindi Altino è sempre l'Altino. Si comincerà a metà di ottobre con una trasferta e poi la prima in casa contro il Sant'Elia, vecchia conoscenza. Si giocherà a Lanciano, tutte queste novità? Si, giochiamo a Lanciano perché il palazzetto di Lanciano ci ha dato disponibilità e dà i requisiti per fare l'A2. Abbiamo scelto Lanciano anche per avvicinarci al territorio in modo da portare più, speriamo, più pubblico nel palazzetto. Obiettivo? Scontatissimo il discorso della salvezza o qualcosa di più? No, no, no. Il campionato è tranquillo, ma sono convinto che ci toglieremo delle belle soddisfazioni. E sono convinto che tu hai azzeccato ancora una volta il tuo bersaglio, come fai ogni anno. Si, si, si. Ti ripeto, abbiamo allestito una buona squadra, confermando gran parte della squadra che ha vinto il campionato e inserendo dentro gente di categoria che sanno il fatto loro. Come dice il cantante, mi fido di te. Grazie.